BASED YOUR FIST Ciao Vets, benvenuti in un nuovo episodio di Ultimate of FTB FTB Hard, o quel che... non so il titolo che metterò, chi se frega Seconda stagione Siamo arrivati al terzo episodio L'altra serie è durata tantissimo, ma ok Allora, un carbone Facendo due calcoli Viene da 8 Quindi 11-8 fa 3 E 3 legni No, perché un legno vale 1,5 Quindi 2 legni Sì, ho fatto un po' di rifornimento di cibo perché morire di cibo non mi va bene Oggi iniziamo a costruire questa maledettissima casa, ho liberato abbastanza il terreno Come fare questa casa? Il dilemma è difficile Può essere complicato Ma, dipende Allora Tanto a sto coso qua non mi piace Vieni via con me Mi ha dato l'arboscello Mi ha dato l'arboscello Mi ha dato l'arboscello Ciao Ok Tu anche Sei una dei tanti Che rompe la valle Tu Birch, proprio Mi sono stancato di vederti Tutta questa collina di terra Di terra, proprio terra Oh, una mela Miracolo Una mela Una mela Mi vengo a piangere Prima volta In 3 episodi Allora Un po' di bistecca E' già di nuovo notte Che bello Quanto è bello il giro Ok Il giro arrosto Allora Recoprando un po' di vita Aiuto paura Voglio torce Allora Prendiamo questi Prendiamo questo qua Prendiamo questo qua Prendiamo questo qua Allora Niente copre questa infinita Faccio di legno la casa Vaffanculo Ehm Avete capito Ehm Ok Mettiamo solo una Ok, sono già sponati Maledetti Quelli ne ha lasciato l'uovo Qua intorno Lagga 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 Perché sto facendo episodi A manetta Perché domani non posso farli Che bello E si Black Ops inizierà Sotanto questi Due giorni Maledetti Porca miseria Devo registrarlo Tanto tempo fa Ma Ho detto Aspetta Faccio più avanti Pio avanti Ho più tempo Visto che ho problemi A scuola Con verifiche Tutte quelle cose E faccio Registro più avanti Registro più avanti Quindi Sti giorni riesco a registrare Sotanto Minecraft Perché Trovo Uno spazio Limitatissimo Per registrare Proprio Bene Perché ho tutto il giorno libro Ma stranamente Mio papà sta a casa Da scuola Da lavoro Quindi Avete capito Non posso registrare Perché c'è lui Quindi PINCIA Quindi avete capito Insomma Allora Quindi Black Ops Comincerà Tranquilli Però Con grande calma Magari della prossima settimana Quindi Tranquilli Se aspettate Black Ops Arriverà Due volevo dire No Black Ops 1 Vabbè non Black Ops Ma Black Ops 2 Intanto Subitevi Minecraft C'è sto arrivando a registrare Tanti episodi Insieme In modo da avere più episodi Possibili Perché serie Non ne abbiamo Aiutateci Aiutateci Perché Ad esempio Se volete un gioco In anteprima Non dico Ok Noi in anteprima Non siamo Dei mega ricchi Però Se volete un gioco Multiplayer Non non player Partecipare anche voi Tipo Se fate Giochi Free to play Online Potete partecipare Nei nostri episodi Tranquillamente Se volete Ci dite Quando avete possibilità Di giocare E noi Faremo episodi Quando avete possibilità Di giocare E' quello il senso Più che altro Final Perché i free to play Non mi piacciono tanto Cioè nel senso Se mi attirano Attirano si Se non mi attirano proprio E Mi attira quello nuovo Che stanno per mandare fuori Quello di Driftopia Un free to play Su macchine Mi attira Mi attira Ha detto che uscirà fra poco Quindi E' per sia playstation 3 Che pc Preferirei pc Perché è più facile registrare E renderizzare gli episodi Quindi Sarà anche quello Un bel gioco da fare Magari con final Qualche giretto Per le città In macchina Anche se a lui non piacciono Quei giochi Io gli faccio piacere Ma in caso Diteci Se volete E soprattutto Ditegli a final Della serie Che vuole fare lui Non tanto Per Per dargli un gioco a final Ma più per aiutare me Perché se devo fare tutti gli episodi Non riesco a starci dietro Quindi Aiutate anche me Se gli date una serie da fare a final Perché già registrare Cercare 3 episodi a testa E' abbastanza complicato Sappiate no? Si Episodi Al giorno E' abbastanza complicato Quindi se vedete Episodi mancare E' normale Ok Forse con 100 iscritti Fare i 3 episodi Al giorno Non è il massimo Però ho letto su internet Che per fare più iscritti possibile E' meglio fare tantissimi video Quindi Prendere la palla a pazzo E continuare a giocare Ehm Se esplode il creeper Mi faccio meno fatica Esplodi? Oh Se esplode il creeper Si ma perdo mezzo di blocchi Vero? Vabbè Sono dettagli Il ragno viola È venenoso Aiuto No Esplode il creeper Di merda Cazzeruola ragno verde No Ragno viola Vabbè Nooo Mi è morta la gallina Questa è guerra Ok Basta Questa è sbordaaaaa Cus Ehm Ok Allora Ricordo Commentate quel gioco Se volete dare la final Vi prego Vi prego Vi prego Non riesco più ad andare avanti Io solo e basta Ehm Commentate se volete qualche gioco della PS3 Anche Visto che è ferma la Tranquilla No scherzo Se sta ferma forse è meglio No scherzo Nel senso Ok mi sto spawnati davanti Vabbè Ehm Nel senso Se volete un gioco della PS3 Che volete vedere Non so Un coso Qualsiasi cosa Ehm Basta che non sia roba horror Per me Per final potete dargli tutto Ok Qualsiasi sito non so Ehm Basta che non gli date macchine L'unica sua Cosa Poi io le faccio piacere anche quello dei macchine Quindi State tranquilli Uscirà anche Skyrim online The Elder Scrolls 5 online Qualcosa del genere Quindi quello la sarà uno dei prossimi giochi Soprattutto per final Visto che piacciono tutti quei giochi la E' a pagamento Quindi Molto bene Però uscirà molto più avanti Come gioco Quindi Ehm Complicata Allora Qua devo riempire Stanto sta la parte sotto Visto che Quella sopra devo toglierla Così risparmiamo terra E lavoro Sì però io la sto riempiendo lo stesso Vabbè Vabbè No che scemo Qua devo mettere la parte sopra Ho già finito tutto da terra Ehm Per quanto un botto di terra l'ho già finito Ok no Un altro stack No perché devo riempire quel buco là Dove ci sono tutti i creeper eccetera E tutti i mostri Bella Quindi Un po' di terra Sì Quindi ricordatevi Commentate Andate sulla Radio Editorial Voice 2 Così commentate la Se siete prima Ehm Si Non si chiama 2 Si chiama La Radio Editorial Voice Punta da 2 Quindi Commentate la Ci sono due domande Anche divertenti Quindi dovete andarle Subito a vedere Perché È troppo divertente quel video Ehm Niente Se Ehm Più che altro Lo gioco Per la serie di Final Perché è rimasto senza Non sa più che cacchio fare Sinceramente Non sa Perché Gli unici giochi che ha fatto È stato Ehm Skyrie E Davy May Cry Davy May Cry Ha avuto un boom di visualizzazione Il primo video Ne abbiamo avuto i 50 Al primo video Tutti gli altri 3, 4, 5 Quindi Che bello Ehm Ma ok Ehm Invece L'altro L'altro Che è Il No Chissafrega Ehm No Stavo dicendo al computer Che Rompe le balle Quindi No Ehm L'altro Che è Skyrim Ha avuto tipo 15 visualizzazioni a video Ok Sono tante Per i pochi iscritti Che avevamo a quell'epoca Però Non ha avuto tantissime visualizzazioni Se gli Urlate dietro che Parla di merda Forse cambierà Ve lo dico sempre Però ok Non si può modificare uno del genere No Vabbè Ehm Altro da dire Siii Aspettate Ok Eccoci qua Mi avevo dimenticato il timer Ma va Per fortuna Non ho oltrepassato i 20 minuti Se no Vi stancate Dopo un po' che scavo terra Così E continuavo a dirvi Commentate Per dargli un gioco A final Poveretto Perché non riesci più ad andare avanti E' la quinta volta Ormai che vi dico questa frase Ehm Niente Ora sto zitto E vi godete tutto il video Muto E qua sono calate le visualizzazioni No scherzo Ehm Non so più che cazzo dire Ehm Allora Parliamo un po' di questo pacchetto L'abbiamo parlato fino adesso Ma continuiamo a parlare di questo pacchetto Perché è bellissimo Fantastico Mi piace tantissimo Ha i colori dell'arcobaleno Ehm Quando piove cresce Ehm Perché c'è sempre il doppio senso? Ehm Eccetera Tutte quelle cose che vengono dietro Ma perché? Perché ogni cosa che dico c'è un doppio senso? Ah Ok Nell'altra serie Eravamo andati avanti Nel senso Nel doppio senso Ehm Che avevamo fatto L'agricolt... L'agricoltura L'agricoltura Avevamo Sì L'agricoltura Sì sì L'agricoltura Abbiamo fatto Lo smistamento chest L'acqua No La query ancora no Perché non ve l'ho fatta vedere Però ho scoperto che c'è la query La nostra amata query Quanto ti ho amata Ehm Ok Questo qua non è amore a seconda vista ma Un retro Un retro Perché la query è vecchissima e su Dive Wolf non c'è stranamente Ehm Quindi Molto bene Vi ho mai detto che Se voi Trovate Un seme Un seme Di lino E lo piantate Dal filo Ok Questa è una cazzo Ehm Non so più cosa dire Vi ho detto tutto Finisci timer Finisci No La prossima volta è un po' di migliera dai Costruisco la casa No La prossima volta facciamola a casa Il legno Non ho voglia di farla in pietra perché bisogna cucinarla e tutte quelle cose Sì Sì Vado col design tranquilli Sì design Vado con Roba bella e non in cobblestone come Dive Wolf Dive Wolf era più spiegazione di mondo possiamo dire Ehm Questo qua è più HARD No non è vero E' una serie del cazzo come tutto l'altro in oscars Ehm Però Ci può Abituare O Non so più cosa dire Aiutatemi Sparate una domanda sui commenti Sparate una domanda in cui posso rispondere Perché non so più cosa dire in questi poveri video Allora L'altra volta ci siamo fermati sulla L'altra volta Ehm 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 Ci siamo fermati Che dovevo fare la cucina Cucina che non è Piano cottura per fare le bistecche Ma Quella per cucinare i minerali Ehm Chi è con la industria Visto che il mio mondo è nato in tega E non ho potuto farla Sarà un mistero ancora per voi come verrà Quindi dovete aspettare altri episodi E voi Nooo Assolutamente nooo Ti odiamo Ti vogliamo male No Ok Grazie eh Complimenti per quello che mi dite in questo preciso momento No scherzo Arriverà molto presto Molto presto Visto che c'è più copre da fare No Dipende quanta mining Quanta mining faccio Quindi Più riesco a fare video Più mining faccio Quindi più aspettate Vabbè Ditemi anche un'altra cosa Se volete i video In che senso Ehm Quelli della mining Velocizzati E' un po' complicato perché non so farlo Però Tenterò in qualche modo Velocizzati con la musica O Ehm Come si dice No velocizzati con la musica Ah si con Non so Musica in sottofondo E io che parlo Ooooo Io che parlo e basta Ditemi voi perché Cioè Cioè se io Vado su youtube Sinceramente se uno va a minare Possiamo dire così Ehm Io preferisco quello con la musica Nel senso che Per raccogliere quattro minerali Posso anche schivare l'episodio Io li guardo tutti comunque però Se mi interessa più che altro li guardo tutti comunque Ehm Però sinceramente Se devo guardare Ma che cazzo Ho già finito la pietra Vabbè Ehm Si ma poca Ma speravo di più Questo spazio qua proprio non metto Vabbè Ma si ho tutta sta parte qua Per una casa basta Ma si Ehm Quindi comincerò la casa Ehm Come stavo dicendo Quale uso Quale legno uso? Questo bianco Ma è l'unico legno che ho Ehm Quindi Ditemi voi se volete Miniera velocizzata con musica Miniera normale con io che parlo con la musica O miniera normale con io che parlo Con io che parlo e basta Ditemi questo più che altro perché Non saprei proprio Allora Sapendo che voglio fare una bella Diciamo Un po' cittadina possiamo dire Non tanto cittadina nel senso Faccio 12 milioni di cose Faccio una città Non arriverò mai a fare una città Però Industria Casa Cortile Parto dal mare E ho la casa rivolta verso il mare O parto Dal Cuore della terra Cioè da qua Il cuore è quello là Con la veduta su La pietra rossa I duri dilemmi della vita Ok ho capito Allora Facciamo una cosa del genere Doppia entrata Qua vi faccio la spiaggia personale Qua E si me la faccio veramente E di qua Faccio l'entrata principale Con la stradina Che va all'industria Che va Quello che verrà E quello con ok Quindi Lo voglio attorno come quella che ho fatto nell'altro episodio Quindi Allora se è doppia entrata Qui ci sarà l'entrata secondaria E quindi Partiamo così Vuol dire che qua ci sarà l'entrata La faccio rialzata come l'altra O sottoterra Nel senso che qua viene il pavimento E qua i dilemmi della vita Dilemma veramente questo Proprio Dilemmante Queste cose difficili da fare E viene notte Che bello Vabbè C'era una cosa che Deciderò nel prossimo episodio Quindi Per questo episodio è tutto Da DJ Ciao Bez